Ben trovati al Tg Sordi di Lecce 7. Cinque giorni consecutivi senza nuovi contagi da Covid-19 in Puglia. Nel Salento il virus è ormai ridotto a pochi casi. Secondo l'ultimo bollettino ASL, i malati sono sette. Mentre la maggior parte dei comuni sono ormai a zero casi. Ancora una tragedia sulle strade salentine. Pantaleo Rosato, 65enne di Martignano, è la quinta vittima in pochi giorni. L'uomo era in sella al suo scooter all'ingresso di Melendugno. Sulla provinciale per Calimera. Quando si è scontrato con un'auto. Il lupo degli alimini sarà presto catturato. L'animale, che mostra molta confidenza con le persone, si è avvicinato ad una bambina e le ha strappato i vestiti, senza per fortuna ferirla. Secondo il WWF, si tratta di un lupo cresciuto in cattività, che deve essere tutelato. La notte della Taranta si farà, ma non ci sarà il classico concertone. Le regole anti-Covid consentono infatti solo mille spettatori. Lo spettacolo potrebbe essere replicato in più giornate, oppure l'accesso alla piazza sarà a numero chiuso. Confermato, invece, il festival nelle piazze salentine. L'ex presidente della regione, Nini Quarta, si è spento a 94 anni. Quarta, originario di Campi Salentina, è stato esponente storico della democrazia cristiana, per la quale ha ricoperto il ruolo di deputato per due legislature. Brutto 4-0 del Lecce in trasferta con la Juventus. Appesato sulla partita, sempre dominata dai bianconeri, l'espulsione del capitano del Lecce, Lucioni, al trentesimo. Questa sera i giallorossi tornano in campo contro la Sampdoria.